Toccato di testa da Maldini, Reikard rischia di perdere il pallone, lo perde in effetti. Ancora Berti, il tocco per Serena, si fermano tutti i difensori, Berti va avanti, la posizione è dubbia e Serena batte sull'uscita Pazzagli. 45-30 di gioco nel corso della ripresa, il gol di Serena è 3-1. Difficile dire da questa prima immagine se la posizione di Serena fosse regolare o meno? Sì, effettivamente è abbastanza difficile, vediamo un attimo. Serena è in posizione regolare, c'è Franco Baresi che lo tiene in posizione regolare. Ritarda un tantino ad uscire, è bravo Serena a temporeggiare, si presenta davanti a Pazzagli ed è freddissimo, se riesce solo a deviare Pazzagli no. Ed è il gol del 3-1 che in pratica chiude la partita, diciamo pure che è l'ultima immagine.